La riqualificazione e la manutenzione delle aree per i cani del comune di Viereggio passano dall'intesa con i privati. L'iniziativa è stata rinominata adotta uno sgambatoio e ricalca quella che da tempo vede imprese e professionisti prendersi cura di aiuole e rotonde in cambio di spazi pubblicitari. Il progetto sarà approvato a breve in giunta. Il privato dovrà farsi carico di interventi per un massimo di tempo di quattro anni come ripristino della rete di recinzione, la sistemazione delle buche e delle fontane o la sostituzione dei pali. Per quanto concerne le aiuole e le rotatorie si fa riferimento alla manutenzione. In questo caso l'amministrazione comunale ha svolto dei sopralluoghi, realizzato dei computi metrici e conosciamo bene l'intervento che è necessario per ripristinare le aree. Quindi l'amministrazione ha pensato di dare l'opportunità ai privati di farsene carico in cambio, così come accade per le aiuole e le rotatorie, di farsi pubblicità all'interno delle aree di sgambatura. Questo avverrà per un periodo minimo di due anni fino a un massimo di quattro a seconda dell'entità dell'intervento messo in opera. Quattro gli sgambatoi presenti a Viareggio, Pineta, Varignano, Migliarina, ma gli interventi più attesi sono quelli a Torre del Lago, nei pressi dello stadio Ferracci, dove gli utenti da tempo lamentano la presenza interna del fossato. Da seguito di un confronto con la cittadinanza e col consorzio di bonifica si è convenuto di chiudere l'area di sgambatura di Torre del Lago su tutti i quattro lati e di allontanarla di cinque metri dal fosso. Obiettivo del comune, una volta sistemati i quattro sgambatoi, realizzarne un quinto fra i quartieri d'Arsena e l'ex campo d'aviazione. Sono già in corso i sopralluoghi per individuare l'area più idonea e poterne programmare la realizzazione.